Io sono Corrado Mandoli, sono ricercatore presso il NIMS Atsukuba e in Giappone mi occupo di ingegneria tessutale, ovvero della ricostruzione di tessuti biologici umani a partire da cellule staminali coltivate su dei particolari supporti biodegradabili e bioriassorbibili. Nello specifico mi occupo dello sviluppo di questi materiali. A Tsukuba mi trovavo appunto nel giorno del sisma e devo dire che è un'esperienza molto forte. Siamo passati dall'euforia del venerdì, del dopo sisma, dello scappato pericolo all'incubo nucleare del giorno dopo, del sabato, per di più nell'impossibilità di reperire acqua e cibo. Già dopo il sisma tutti i supermercati, pompe di benzina, erano stati in qualche modo depredati. Di qui la decisione due giorni più tardi di lasciare il paese. Decisione che è stata molto sofferta dal momento che sapevamo che il peso sia economico che morale di questa scelta sarebbe gravato sulle nostre spalle, dal momento che nessun supporto sia stato garantito dall'ambasciata in questo. Al momento la mia situazione è critica perché nel migliore dei casi, cioè che l'allarme nucleare rientri completamente in un regime di sicurezza, comunque il ripristino completo dei laboratori di ricerca, in particolare degli apparati biologici di cui mi occupo, richiederà diversi mesi. Quindi non escludo comunque una rilocazione in qualche modo delle mie attività di ricerca in altri istituti, anche fuori dal Giappone. Non credo in Italia in ogni caso. Con questo mi collego al discorso della ricerca in Giappone, che è un tema sicuramente percepito in modo molto differente dall'Italia, perché a mio modo di vedere le cose il Giappone, a differenza dell'Italia, ha capito che lo sviluppo economico non può prescindere da uno sviluppo tecnologico, motivo per cui il tema della ricerca e la figura stessa del ricercatore non è associata come in Italia ad un modello così, ad un'instabilità sociale ed economica, questo alone così di precariato che lo circonda, ma è un modello vincente, in qualche modo, perché la ricerca riveste un ruolo importante sia per gli addetti ai lavori che per l'abolazione, che è costantemente sensibilizzata e aggiornata sugli sviluppi del proprio paese, gli sviluppi tecnologici e i traguardi che raggiunge. Quindi, insomma, mio malgrado sono stato costretto a tornare in Italia e spero presto di riuscire a ripartire, se non in Giappone, verso altre mete. Grazie, grazie a tutti e tanti auguri Rita. Arrivederci.